I doviniti, i doviniti, i doviniti, i doviniti! Speed quiz, un classico di step. Sappiamo che il campione in carica al momento è Biagio Izzo. Biagio Izzo! Con il numero di 357 vittorie e solo 4 partecipazioni. Odio! 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 Il gioco, per chi non lo conoscesse, è molto semplice. Una domanda, tre risposte. Ad esempio, tre colori. Bianco, rossa e verde. Tre capitali europee. Ok, perfetto. Come vedete. Io comincerei con Pucci e Katia Folletti. Bravo, bravo. Ci fanno scontrare tra di noi. Ma perché? Scusi? Non si inizia così? Va tutto bene? Ah, pensavo che... Ah, volevi fare la gara? Allora, avete 5 secondi per darmi 3 risposte. Cominciamo da Pucci. Pronti? Tre piegamenti stile Marines. Uno. Perfetto. Ah, no, no. Vai, 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 vai. Perfetto. Tre stati degli USA. Ohio. Ehm, ehm... Eh... Eh, sono io l'ignorante. Eh, sono io l'ignorante. Si accomodi, prego. Eh, ma non è che ci arriva. Eh, capita, capita. Ah, quanti vorremmo? Capocchio. È la fretta, è la fretta. È la fretta, non è che non l'hai saputa. È la fretta. Eri tu al gioco del rubagalline? Si, è la fretta. Cominciamo proprio da te, Peppe. Con tre mosse per lanciare il lazzo. Oh, haggia! Eh, eh... Eh... Eh, chi ne è? Più ne è? Più ne... Eh, merda, va bene. Tre segnali di divieto. Tre segnali di divieto. Stop! Fermati! Oh, aroa! Sì, vabbè, però... Un precisamento di dove sei? Io sono di... Sto rannunziato. Tre versi da Condor. Bu! Oh! Iee! Bu! Il Condor arbitro! Ah, sei eliminato! Non lo possiamo dare per buona? Bu! Il Condor. Sì, da imbroglione. Vado, vado. Imbroglione. Marcello... Dove ti... Falso! Persona falsa. Eh? Che cosa crede lei, eh? Che qua siamo... Una vita intera! Per questo momento. Vai, vatti a subito, vai. Ah... Tre parole in americano. Yes, maybe... Ok. Questo è forte, questo è forte. Tre parole in americano di broccolino. Di? Di broccolino. Italo-americano. Ah, sei very cute, you. You wanna come with us? You wanna eat with me in the... Stefano, scusa. La domanda era italo-americano. Questo era americano. Giusto! Allora, c'ha ragione, Palangelo. Giusto! Fini scuace, deve tornare a casa. Tornateli a casa! Jake! Scorre buon sangue, vedo. No, ma sono stato eliminato perché hanno visto che sarei stato tutto il tempo volato. Mi raccomando, eh? È un po' bravo. Allora, tre pose da culturista. Proprio lo stesso fisico, guarda. Oh, lei. Eh, Superman. Tre nomi maschili americani. Mike, John, Jake. Amma mia, oh! L'americano lo superiore. Tre nomi femminili americani. Taylor, Megan e Claire. Claire. Tre facce da toro seduto. Il secondo ho capito anche dove era seduto. Tre cose che mangiano i poliziotti nei telefilm durante gli appostamenti. Hamburger, bacon and tramezin. 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 Sul tramezin te ne devi andare via. Pamela. È così. Tramezin. Tramezin. Donuts. Donuts. God Dog. Donuts. Un tramezin. Un tramezin. Allora, tre passi con i blue jeans molto molto stretti. Non lo so. Non lo so, ce la sono, capito. Va bene, va bene, va bene. La diamo per buono. Il pensiero. Allora, tre colleghi che porteresti in un motel. Katia Follesa, Pamela Camassa. È uno buono. E... Ma noi la ritorno. Troppo tardi, troppo tardi, va bene. Grazie, troppo tardi. Ci vediamo al motel, Jake. Francesco, il maestro, venga qua. Vai, Pamela! Oh, come faccio? Come faccio a non farla vincere? No, è che... Mi è complicato. Allora, tre personaggi con cui faresti un cost to cost? Un cost to cost? John Travolta, Francesco e Stephen. Allora, partiamo. Partiamo, adesso sì. Sei pronto? Stiamo a John Travolta che si va. Tre cose che è meglio fare con le scarpe. Camminare a terra, schiacciare uno... Lei è fuori! Lei è scaldato nel palco. Hai perso! Hai perso! Hai perso! Hai perso! Hai perso! Non ti ne ho detto. Non imbrogliare, hai perso. Accetta la sconfitta. Va bene, gli do un bonus solo perché è un campione. È un bonus! Le do un bonus, le faccio la domanda di riserva, va bene? Eh, va bene. Tre attori nati negli Stati Uniti. Iber Norton, Richard Butler e Kenny Reeves. Kenny Reeves. Va bene. Scusa Stefano. No, no, carino. No, erano giusti, no? No, Kenny Reeves è nato a Beirut. No, tre attori, quindi non è un attore americano. No, Kenny Reeves è nato a Beirut. Ho capito? È un beirutese. No, è arrivato il conoscitore mondiale degli attori americani. Faccia con i dati. È arrivato il direttore dei Medecchetti americani. Si chiede, dai. Kenny Reeves non è americani. È di Beirut, dai, di starete. Dobbiamo dare delle informazioni. No, 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 no. È il gioco labbra. È il gioco labbra. Il del sedicenne. Il sedicenne. Il regista. Il sedicenne. Il sedicenne. Non sono attore americano! Allora al bacino! Non è attore americano! Allora roba il diritto! Non è attore americano! No! Non è attore americano! No! Sto giocando io, mi distrutto, mi fai confondere e io fai di gioco! Quello sta portando le carriole di concime, lo distratti! Kenio Rivas non è attore americano! No, le ha portate tutte le quali! Rivas! Rivas! Tre facce da Robert De Niro! Un, due, tre! Tutta le quali! Tutta le quali! E' quello uguale! Tre mosse da spogliarello! Facce le... oh! Oh no! Fanno qualcuno in via! Tre facce da chi guarda lo spogliarello! Allora John Travolta! E' quello che per Travolta che mi troppo mi ti sale! Vagosa! Faccia la bellona! Allora John Travolta! Rumeo Merigold! E' quello che ti chiamo Travolta! E' quello che ti chiamo Travolta! E' quello che ti chiamo Travolta! E' quello che ti chiamo! Grazie.